Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei film che attendo di più nel 2023 e fortunatamente saranno tanti perché quest'anno, quest'anno da domani in realtà, sarà molto variegato e soprattutto molto intenso di film che mi interessano. Questo video sta uscendo il 31, lo sto registrando il 30 e per questo vi auguro comunque un buon fine 2022, buon inizio 2023, sarà l'ultimo video dell'anno naturalmente, e vi anticipo già in questo video che ci saranno un paio di sorprese il prossimo anno, sia sul canale ma anche sugli altri social. Prima di iniziare però appunto vi invito a seguirmi anche su tutti gli altri miei spazi, Instagram tra tutti perché ho iniziato di nuovo a fare le recensioni come post con la schermata divisa in due da una parte la locandina e da una parte la mia facciona. Poi vi invito anche a seguirmi su TikTok dove ho letteralmente cancellato il passato, non c'è più nulla del passato e sto avendo un nuovo inizio con video un po' più studiati e soprattutto molto più regolari e con una pubblicazione regolare. Twitter in realtà l'ho abbandonato ma penso di tornarci presto e novità Letterboxd. Perché dopo che un certo creator, non dirò il nome ma penso l'abbiate capito già tutti, si è fatto appunto Letterboxd, molti di voi pubblico, utenti che seguono questa cerchia ristretta di creator che parlano di cinema online come me, sono andati da questi creator a chiedere di aprire un profilo Letterboxd e siccome comunque io l'avevo già aperto molto tempo fa ma non ne avevo parlato con nessuno, ho deciso di aprirne uno nuovo e quindi adesso mi trovate come il pensiero di Andri anche su Letterboxd. Per chi non conoscesse Letterboxd è una piattaforma, un social con al centro il cinema, si possono scambiare recensioni di film, anche di serie, ma non ho capito perché ci sono alcune serie ed altre non ci sono. Si può mettere like, commentare, comunque un social normale, si possono creare anche le liste, infatti ho creato anche la lista dei film che ho visto nel 2022, tutti i film usciti nel 2022 che ho visto. Da domani arriverà anche la lista film 2023, però vabbè comunque come ho detto i link di tutti questi social sono in descrizione, assieme anche al link di Pampling, sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questo fantastico design, ma anche questo è questo e se al momento del pagamento inserirete il mio codice ILPENSIERO4 avrete diritto a un paio di calze gratis a scelta. Ma adesso passiamo ai film che attendo di più quest'anno. Non sarà una classifica, quindi non andrà dal film che attendo di meno a quello che attendo di più, anche se magari poi quando parlerò di un certo film dirò ok questo è il film che attendo di più, non vedo l'ora di vedere nel 2023, però appunto non sarà una classifica, non si andrà dal meno atteso al più atteso. Sono tutti film che attendo comunque, che voglio vedere con grande curiosità, messi così nella lista, appunto una lista. Iniziando con Indiana Jones e la ruota del destino. Non vedo l'ora di vedere questa conclusione di Indiana Jones, non sono mai stato un grandissimo fan di Indy, ma siccome sto riguardando i film nell'ultimo periodo sono nel mood e voglio vedere appunto come si andrà a concludere la sua storia. Il regista è James Mangold, lo stesso di Logan, e quindi mi aspetto assolutamente che qui Indy ci lasci le penne, proprio come è successo in Logan, il film con Hugh Jackman su Wolverine. Arriverà il 30 giugno, non credo assolutamente che questa sarà la data anche italiana, magari arriverà qualche giorno prima o qualche giorno dopo, comunque non il 30 giugno perché questa è la data americana. Alcuni rumor dicono che ci sarà al centro il viaggio nel tempo, non sono contentissimo di questa scelta, ma voglio vedere come la butteranno giù e non mi fa impazzire assolutamente come è fatto Harrison Ford in CGI, anche se il trailer comunque mi è piaciuto, e ho paura perché una buona parte del film sarà tutta con un Harrison Ford giovanissimo fatto in CGI. E spero che la qualità della sua faccia sia migliore di quella vista nel trailer. John Wick 4, in arrivo il 23 marzo. Ok, al contrario di Indy per quanto riguarda John Wick sono molto più fan, ok, potrebbe sembrare strano da sentirsi dire, ma essendo John Wick ancora più stupido di Indiana Jones come concetto mi fa impazzire perché è solo uccisioni a caso, e poi a caso non sono effettivamente perché sono tutti cattivi, però tutte le scene d'azione sono stupende. Dopo il finale del terzo voglio assolutamente vedere come andrà avanti la storia di John Wick con Keanu Reeves, sempre Keanu Reeves, sempre lui, ora gli manca qualche dito ma credo che non sarà un limite per lui perché è Dio, può fare qualsiasi cosa vuole, e il trailer mi ha fatto letteralmente impazzire, ci sono delle scene d'azione che già solo nel trailer appunto mi fanno uscire fuori di testa, non vedo l'ora di vedere il film. Creed 3, in arrivo il 2 marzo. Ho recuperato la saga di Rocky solamente nell'ultimo periodo, anche se i due Creed li avevo già visti tanto tempo fa, e ho recuperato la saga perché volevo vedere questo Creed 3. In poche parole Rocky è diventata una delle mie saghe preferite, in Rocky aggiungo anche Creed perché soprattutto i due film su Creed mi sono piaciuti molto, e quindi attendo tantissimo questo terzo capitolo anche perché è diretto da Michael B. Jordan, voglio vedere come se la cava dietro alla macchina da presa, voglio però anche vedere lo scontro tra Michael B. Jordan e Jonathan Major, che tra l'altro interpreterà anche Kang ed è abbastanza prevedibile anche Ant-Man and the Wasp in questa lista. Fatto curioso però mi è sembrato più minaccioso in questo trailer di Creed che in quello di Ant-Man and the Wasp, dove interpreta effettivamente un cattivo, super cattivo, là sarà solo un cattivo normale, anche se picchierà come un fabbro, però anche il trailer di Creed è davvero grande, grande roba. Voglio vedere cosa diranno per quanto riguarda Rocky, perché nel film Sylvester Stallone non ci sarà, quindi credo che Rocky sarà morto, magari comparirà un'altra lapide accanto ad Adrien e a Poli, con Donnie ogni tanto lì va a parlare anche con Rocky invece che stare solo con suo padre, con Apollo, e che dire ancora, hype assurdo per Creed 3, non l'avremmo detto fino a qualche mese fa. Visto che ne ho già parlato, Ant-Man and the Wasp Quentumania, in arrivo il 15 febbraio, il trailer mi è piaciuto, non mi piace anche in questo caso come parte il tutto un po' in stile Spider-Man Way Home con il ragazzino, in questo caso la ragazzina di turno, che combina danni, però quando si entra nel Regno Quantico, oltre alle vibes Guardiani della Galassia, mi è piaciuto tutto quello che si è visto. Mi dispiace solo che il terzo film di Ant-Man sarà meno urbano in confronto agli altri due, perché Ant-Man è più un supereroe urbano, però in questo terzo film si è cambiata un po' rotta, anche perché effettivamente ci sarà Kang, che è il major villain, il Jonathan major villain di questa saga, la multiverse saga, con tanto di Kang Dynasty Avengers sul finale, quindi penso sia inutile stare qui ancora a parlarne, ma hype anche per Ant-Man and the Wasp Quentumania. Voglio vedere Modok, anche se dai Funko Pop non mi piace esattamente il suo stile, il suo look, però vediamo. Avrei pagato letteralmente oro per vedere, come alcuni rumor dicevano, Jim Carrey nel ruolo di Modok, invece è Corey Stoll, il tizio che interpretava il calabrone nel primo Ant-Man, quindi è lo stesso personaggio, solo che ha cambiato un po' aspetto fisico a causa del soggiorno nel Regno Quantico. Nel film c'è anche Bill Murray, voglio vedere come se la cava in un cinecomic, soprattutto nel ruolo che gli hanno dato, che in realtà è molto macchietta, almeno sembra così dalla descrizione, ma è Bill Murray e quindi voglio vederlo. E anche Ant-Man in realtà alla fine è un personaggio che mi piace vedere nei film, quindi curiosità ma anche hype in realtà per quello che potremo vedere, anche perché appunto è l'inizio di qualcosa di più grande secondo me. Non solo perché c'è Kang, ma proprio perché Ant-Man e il Regno Quantico in realtà è molto importante, è stato già molto importante in passato e credo che sarà altrettanto importante nella multiverse saga, visto che comunque in Avengers Endgame le hanno fatti passare come viaggi nel tempo, ma tutto sommato anche quelli erano universi paralleli, quindi il Regno Quantico avrà molto a che fare con il multiverso. L'ho già citato parlando di Ant-Man and the Wasp Quentumania, attendo tantissimo anche Guardiani della Galassia Vol. 3. Il trailer è magnifico, uno dei migliori trailer usciti quest'anno, assolutamente. Voglio vedere a malincuore chi ci lascerà in questo film, c'è già la croce su Drax e anche Rocket, voglio vedere appunto se moriranno entrambi, se morirà uno solo. Io penso morirà più Drax che Rocket, però bisogna vedere. Spero non muoia nessuno, ma è inevitabile, anche perché James Gunn, il mio grandissimo James Gunn, che ora sembra un idiota, ora che si è messo a lavorare alla DC, per chi sente le voci, ma Gunn avrà sempre un posticino nel mio cuore, soprattutto ora che ho visto Peacemaker, e per Guardiani della Galassia veramente solo hype. Ecco, questo è uno di quelli che attendo veramente di più nel 2023, nella top 3 dei film che attendo di più. Sempre nella top 3, così ci leviamo tutti i film Marvel che attendo nel 2023, abbiamo Spider-Man Across the Spider-Verse. Sì, quel di Into the Spider-Verse che arriva l'1 giugno qui da noi, io in quel periodo sarò in strapensiero per gli esami, a giugno-luglio, aiuto. Però almeno avrò questo zuccherino da parte di Sony, spero almeno zuccherino, poi magari si rivelerà un bruttissimo film totalmente opposto a Into the Spider-Verse, ma spero di no. Il trailer mi è piaciuto, anche se comunque più che trailer è semplicemente una passerella di versioni di Spider-Man, sarà che mi è piaciuto per quello, perché alla fine in me c'è anche una piccola parte che si è divertita con Spider-Man No Way Home, che si è divertita con i diversi cameo, anche in Doctor Strange, quindi ecco, in Across the Spider-Verse di cameo ce ne saranno tantissimi. Però in fin dei conti effettivamente il trailer riguardandolo è un po' inutile, c'è veramente poco del film, ci sono solamente questi Spider-Man che attaccano Miles Morales e basta. Oltre, vabbè, all'animazione che comunque è sempre fantastica, lo stile d'animazione, gli stili d'animazione messi tutti assieme sullo schermo, ok, quello lo tralasciamo perché comunque è magnifico e intoccabile. Assolutamente curioso di vedere quello che succederà in questo film, quello che soprattutto spingerà Spider-Man 2099, Miguel, no Michael, che è Michael, Miguel O'Hara a cercare di combattere Miles Morales, voglio vedere per quale motivo, in realtà tutti gli Spider-Man cercano di far del male a Miles Morales. Voglio vedere anche The Spot come villain, perché sembra interessante, l'hanno reso molto interessante in confronto a come è presentato nei fumetti. E sì, alla fine Spider-Man Across the Spider-Verse è forse il film che attendo di più in assoluto nel 2023. In realtà sono abbastanza indeciso, a pari merito con Guardiani della Galassia, non posso farci nulla. Da una parte c'è Spider-Man, che è il mio personaggio Marvel preferito in assoluto, e dall'altra c'è James Gunn. Ma passiamo a The Flash, in arrivo il 16 giugno, in realtà non lo attendo tantissimo, lo attendo solo perché c'è Michael Keaton come Batman, quindi comunque lo attendo, sì, ma non per The Flash. Anche se comunque il personaggio di Flash mi piace molto, non il Flash di Ezra Miller, anche se qui sembra molto diverso. Le aspettative sono basse, anche se quelli che hanno già visto il film dicono che sia il miglior film del DC Extended Universe, che non esiste più, adesso ci sono i DC Studios con il DCU, con James Gunn e Peter Safran a capo, e hanno già fatto cose che ho apprezzato tantissimo. I film DC nel 2023 saranno abbastanza inutili, non porteranno quasi a nulla nel DCU, proprio a nulla in realtà, perché sono dei cul-de-sac, dei vicoli ciechi, però comunque sarà sempre per la mia piccola parte che ha apprezzato Spider-Man No Way Home, che ha adorato il trailer di Across the Spider, Versperli, Spider-Man, Dr. Strange, bla 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 bla, ma anche qui i cameo mi interessano. In realtà sono il cameo del Batman di Keaton, poi c'è il Batman di Affleck, che no, dovrebbe esserci anche Wonder Woman, indifferente totalmente. Voglio vedere, voglio vedere soprattutto il risultato che avrà il film dopo tutto quello che è successo con Ezra Miller. Passiamo a Dune parte 2, arriverà il 3 novembre in America, non si sa la data italiana, e per quanto riguarda Dune, in realtà ho rivalutato tantissimo il primo film riguardandolo ultimamente, e l'ho rivalutato un po' in peggio in confronto al pensiero che avevo l'anno scorso, guardando il primo film, perché effettivamente non porta tantissimo come pellicola. Cioè è un world building, ma non mi sono... e comunque il world building è fatto abbastanza bene, ti presentano bene il mondo, bene il pianeta, i pianeti di questo universo, ma non mi ci sono affezionato tantissimo in realtà, e men che meno i personaggi che vengono presentati minimamente. Ora, nel secondo film dovrebbe esserci una maggiore presentazione sia dei personaggi che abbiamo già visto, ma anche di nuovi personaggi. Il personaggio di Zendaya che letteralmente nel primo film ha fatto solo 5 minuti di girarsi e basta, 5 minuti sullo schermo totali, se non sbaglio è stato contato il suo screen time, ed è di 5 minuti su un film di quasi 3 ore, e ha fatto semplicemente 5 minuti di girarsi, così. Qui sarà un po' più importante, ci saranno anche altri attori che sono curioso di vedere in questo mondo, comunque di rivedere, come Austin Butler che ho adorato tantissimo in Elvis, ci sarà Florence Pugh che adoro e basta, e per lo più sono curioso per questo, per vedere cosa faranno, più che perché mi è piaciuto di un parte 1. Mi è piaciuto, non è che... non dico che è un brutto film, ma, ripeto, l'ho rivalutato abbastanza. Elemental, in arrivo anche questo il 16 giugno, sempre in America, non abbiamo ancora data italiana, adoro la Pixar, il mio studio di animazione preferito in assoluto, se la gioca molto con i primi Dreamworks, ma tenendo conto della totalità dei film, adoro più Pixar che Dreamworks. Il concept di Elemental mi è piaciuto fin dall'inizio, dalla prima immagine che è stata rilasciata, dal primo concept art, letteralmente, dei personaggi fatti e schizzati a matita. Poi il teaser trailer che è stato pubblicato, è divertentissimo, contentissimo con tutte le conseguenze di questa convivenza, di tutti gli elementi esistenti, acqua, fuoco, aria, terra, qualsiasi cosa, e l'ho apprezzato, quindi sono davvero curioso di vedere quello che Pixar ci presenterà, anche perché quest'anno Pixar ha sfornato Red e l'ITR, io ero curiosissimo per l'ITR, pochissimo per Red invece, e il risultato è stato che ho apprezzato tantissimo Red, ha una seconda visione in realtà, la prima un po' meno, e l'ITR mi ha lasciato molto freddo. Ed è stato un peccato vedere Turning Red o Red solo su Disney+, mentre l'ITR, vabbè, comunque l'ITR mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, però mi aspettavo di più. Vediamo questo Elemental, perché le premesse sembrano davvero davvero interessanti, sulla diversità ovviamente, c'è sempre la morale dietro, ha anche un film che sembra per lo più per bambini, la diversità nelle coppie, o comunque in generale proprio nella popolazione, nella vita, in una città, in quello che volete, e sono davvero davvero curioso. Elemental lo attendo molto. Shazam, la furia degli dèi, arriverà il primo luglio, lo attendo per lo più perché il primo Shazam mi è piaciuto, fino ad Assassin's Quad lo reputavo il miglior film del DCU, va abbastanza sottovalutato in realtà per quanto mi riguarda, perché sì, è stupidotto come film, ma proprio per quello non ha tantissime pretese, non come Black Adam, ecco, e mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, ma credo che a quelli che l'hanno visto sia piaciuto, comunque in generale, però appunto l'hanno visto in pochi, perché ha fatto pochissimi soldi, infatti questo sequel non se lo sta già cagando nessuno, non lo vuole vedere nessuno, probabilmente sono io e qualcun altro che lo vogliono vedere, e mi dispiace perché Zachary Levi è simpaticissimo, il personaggio, ripeto, mi piace, e anche Shazam in realtà poi non porterà nulla, credo, nel futuro del DCU, quindi prenderemo i film che arriveranno quest'anno nel 2023, i film DC come appunto dei semplici film, non facenti parte di un universo condiviso, perché l'universo condiviso di cui facevano parte non esiste più. Il trailer è arrivato un po' troppo presto, visti alcuni rimandi, mi è comunque piaciuto, e in realtà per Shazam Fury of the Guts non ho altro da dire, quindi Scream 6. Arriva il 9 marzo qui in Italia, e a me sinceramente il quinto film di Scream, intitolato solo Scream, mi è piaciuto, mi è piaciuto anche tanto, non penso sia chissà che grande obrobrio nella saga di Scream, ora c'è da vedere ovviamente cosa sarà quest'altro nuovo capitolo di Scream ambientato a New York, non ci saranno quindi più i protagonisti della saga originale, è già stato confermato, ora ci sono nuovi protagonisti che porteranno la saga avanti per altri 100 miliardi di film, sicuramente, tra cui Jenna Ortega, quindi credo che comunque Scream 6 farà un grandissimo successo, visto che ora Jenna Ortega è sulla bocca di tutti, essendo mercoledì, e c'è ancora qualcuno che non sa che era già presente in Scream 5, anzi era la prima ragazza a comparire nel film, quella che faceva da parodia diciamo al Drew Barrymore del primo Scream, che sarebbe dovuta morire effettivamente, ma è una delle Final Girl, il trailer, teaser in realtà mi è piaciuto, ripeto il film è ambientato a New York, sotto alcuni punti di vista potrebbe essere limitata come roba, limitante come roba, sotto altri punti di vista rafforzante, vediamo come se la giocheranno, e poi sinceramente mi piace tantissimo ogni volta guardare uno Scream per cercare di capire assieme ai personaggi chi è Ghostface, quindi io questo Scream 6 lo attendo. Super Mario Bros il film, in arrivo il 6 aprile in Italia, l'animazione non mi fa impazzire l'animazione che vediamo, anche se è coloratissima, molto in stile appunto Minions, perché è la Illumination che sta lavorando a questo film, però per quello che abbiamo visto, soprattutto nel secondo trailer, non il primissimo, mi ha fatto impazzire. Sono molto curioso di vedere questo film, sono curioso di vedere come esploreranno il mondo di Super Mario, non sono un giocatore dei giochi, ho giocato letteralmente solo a Mario 64 per DS, con Yoshi, e poi solo a Mario Kart non ricordo nemmeno quale, sempre per DS, però ci sono stati dei certi feel di odio quando si è vista la pista arcobaleno nel trailer, nel finale, che è una pista che odiavo ovviamente nel gioco. Ci sono alcuni riferimenti che sono riuscito a captare anch'io, quindi anche non essendo un giocatore, penso che mi divertirò molto a cercare questi easter egg, questi riferimenti, ma in generale appunto lo attendo, lo attendo per vedere il world building, lo attendo per vedere Bowser, che è Jack Black, poi sfortunatamente ho già sentito alcuni rumor, più che rumor dei leak, abbastanza accreditati, sulla post credit. E ragazzi, penso che, penso che vi piacerà, soprattutto se siete fan ovviamente di Super Mario, però mi sono già bruciato la post credit. Blue Beetle, in arrivo il 18 agosto, altro film DC che non porterà nulla, credo, poi magari alla fine James Gunn e Peter Safran decideranno di tenere, almeno Shazam e Blue Beetle, visto che sono i nuovi personaggi di questo DC, di questa DC, poi The Flash magari no, cioè The Flash rimarrà, ma credo che comunque avevano già idea di cambiarlo prima, dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran, visto che è Ezra Miller, il famoso sportivo tiratore di sedie, però Blue Beetle comunque non sappiamo veramente nulla, abbiamo visto solamente questo poster che state vedendo adesso, e sappiamo che, ad interpretarlo, è Miguel di Cobra Kai, lo attendo per lo più per questo, per vederlo in un ruolo diverso da quello, dall'unico in cui l'ho visto in realtà, e magari in una produzione con giusto qualche soldo in più, visto che Cobra Kai, soprattutto nelle ultime stagioni, sta andando sempre più calando. Blue Beetle, anche se non so se è lo stesso personaggio, perché di Blue Beetle ne sono esistiti tanti, nei fumetti e nelle serie, nei prodotti in generale, Blue Beetle lo conosco dalla serie animata di Batman, una delle serie animate di Batman, non ricordo esattamente quale, ma lo conosco, voglio vederlo in live action, sembra molto un, per quello che mi ricordo, un'unione tra Spider-Man e Ant-Man, ok andiamoci così, Spider-Man, Ant-Man e Venom, perché c'è comunque il lato alieno nel personaggio, e del resto nient'altro, aspetto di vedere un trailer, un teaser che credo arriverà fra qualche mese, il film arriva ad agosto, quindi a febbraio dovrebbe arrivare il trailer di The Flash durante il Super Bowl, è già confermato, e The Flash arriva appunto a giugno, quindi per quanto riguarda agosto, magari marzo, a marzo potrebbe arrivare il trailer di Blue Beetle, se non prima magari. Passiamo a Cocaine Orso. Cosa volete? È un orso che ha pippato cocaina, per quale motivo mi state chiedendo perché attendo un film del genere? A parte gli scherzi, arriva il 27 aprile, e il trailer mi ha divertito tantissimo, sarà una cagatona, per questo lo attendo, è una storia vera, e questo mi diverte ancora di più, è un orso che è esistito realmente, che è entrato in contatto con dei panetti di cocaina dispersi da qualcuno, e non so se effettivamente nella realtà ha iniziato a ammazzare gente, ma la storia è vera. Voglio vedere il film, basta, non ho nient'altro da dire veramente, voglio vedere Cocaine Orso. Bussano alla porta. No, non alla mia, ma questo è il titolo del nuovo film di M. Night Shyamalan, 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 vabbè, comunque, regista che tutto sommato apprezzo molto, perché, ok, magari è una cosa che non piace a tutti, ma il grandissimo colpo di scena finale, che spiazza, per quanto mi riguarda, con me funziona, anche se, per Old, che comunque mi è piaciuto, l'ho inserito se non sbaglio anche nella lista film migliori del 2021, con Old avrei preferito non avere il colpo di scena finale, non sapere, non sapere proprio tutto, tutto quello che stava succedendo, però per quanto riguarda Bussano alla porta, soprattutto dopo il trailer, e soprattutto per alcuni membri del cast, Dave Bautista, e Rupert Grint, ho appena finito il rewatch di Harry Potter, e voglio piangere, Ron, io lo adoro come personaggio, per tutto questo, anche per Shyamalan in realtà, in generale, lo attendo, attendo molto il film. Arriverà il 23 febbraio in Italia, sembra molto interessante come concetto, ovviamente ci sarà il colpo di scena finale, inaspettato, magari butto già qualcosa, qualcuno lì è un alieno, qualcuno è già morto, qualcuno ha fatto qualcosa, comunque questi sono i colpi di scena di Shyamalan, quindi mi aspetto una cosa del genere, in realtà sono tutti morti, e c'è la bambina l'unica che come il sesto senso, vede i morti, vabbè, una cosa del genere. Passiamo a Barbie, sì, attendo Barbie, lo attendo in realtà per la curiosità, perché dietro alla macchina da presa c'è Greta Gerwig, e solitamente non fa film del genere, come quello che possiamo aspettarci da un film su Barbie, quindi sono curioso di vedere cosa tirerà fuori, cosa sarà effettivamente questo film, perché non mi aspetto semplicemente un live action di una bambola, perché è quello che non sarà assolutamente questo, non so nulla sulla sinossi, non voglio sapere nulla, voglio rimanere all'oscuro, quando poi andrò davanti al cinema a chiedere un biglietto per Barbie, ora che ci penso sarà difficile, però il trailer con tanto di citazioni a Odissea nello spazio mi è piaciuto, il cast è magnifico, davvero stellare, da Margot Robbie che interpreta Barbie, a Ryan Gosling che è Ken, c'è Simu Liu, ci sarà Will Ferrell, ci stanno tantissime persone, sono davvero curioso di vederlo. The Whale, in arrivo il 23 febbraio con Brendan Fraser, quelli che l'hanno già visto dicono che si beccherà almeno una candidatura agli Oscar, perché comunque il film è già uscito, comunque uscirà, non lo so, non so quando uscirà in America, comunque da noi arriverà il 23 febbraio, si pensa che si beccherà a Brendan Fraser una candidatura, forse la vincita agli Oscar per questo film, sono quindi curioso assolutamente di vederlo, perché Brendan Fraser è un attore che apprezzo tantissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, riguardando i vecchi film in cui era totalmente un'altra persona, tutto quello che gli è successo fa assolutamente empatizzare, sia me che comunque tutto il pubblico con lui, e già dal trailer sembra che questo The Whale, che non sarà un altro remake di Moby Dick, tranquilli, sembra che questo film sarà molto molto toccante, molto difficile da vedere, poi è Aronofsky, quindi vabbè. Altro film che attendo, La Sirenetta. Già, non l'avrei mai detto, perché primo non mi piace il classico originale, il classico Disney, e non avevo il minimo interesse per questo live action, sia perché è un live action Disney, ma anche perché appunto della Sirenetta non me ne può fregare nulla, però dopo aver visto il teaser, quella voce, la voce di Aile Baili, in originale, ma anche in italiano un po' meno, ma anche in italiano ci può stare, quella voce mi ha fatto venire la pelle d'oca, e mi fa venire ancora la pelle d'oca ogni volta che l'ascolto, sono super curioso di vedere il film, anche perché comunque io, veramente La Sirenetta l'ho visto pochissime volte a spezzettoni, non mi interessa nemmeno vederlo, voglio quindi vedere questo live action, anche per vedere il film alla fine. E direi di passare all'ultimo film che attendo nel 2023, Wonka, con Timothee Chalamet, è il prequel del film degli anni 70 con Wilder, non ha nulla a che fare con il film di Tim Burton, anche questo come quel film è un musical, voglio vederlo sia per vedere Timothee Chalamet nel ruolo di Wonka, che non mi sarei mai aspettato di vedere, ma anche perché nel film c'è Rowan Atkinson, ovvero Mr. Bean, per chi non lo conosce con il suo vero nome, e poi comunque la storia di Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, mi interessa, voglio vedere il passato di almeno quel Willy Wonka, non quello di Tim Burton, che abbiamo già conosciuto, più o meno già nel film del 2005. Non ho nient'altro da dire su questo film, anche perché arriva il 15 dicembre, e quindi il primo trailer arriverà forse in estate, non lo so. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto quale di questi film attendete di più, io ormai ho detto letteralmente tutti i film più importanti del 2023, quindi li attendo tutti, non me ne frega assolutamente nulla di Oppenheimer, ve lo dico tranquillamente, credo che il film non lo vedrò nemmeno al cinema, perché ho paura di annoiarmi così tanto da addormentarmi, e quindi perdere alla fine i soldi spesi. Vi ricordo ancora una volta che nella descrizione trovate i link più importanti tra i miei social, Instagram, Twitter, TikTok e Letterboxd, il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale, avere un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!